... Lunedì 30 gennaio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio BM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio BM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Dei nostri studi in via Cavurtrea a Belluno, Marco Crepas accompagnerà nella lettura del quotidiano Il Corriere delle Alpi. Vediamo subito uno sguardo a titoli presenti in prima pagina. La notizia messa in primo piano riguarda la sanità bellunese, questo il titolo. Guardie mediche in pronto soccorso per i codici verdi. Nuova manovra per tamponare le falle negli organici dell'USL numero uno. Offerte ore integrative agli specializzanti scettico, il sindacato Snami. Guardie mediche in arrivo al pronto soccorso di Belluno e Feltre per occuparsi dei pazienti con codici bianchi e verdi in orario diurno con un compenso di 50 euro all'ora. La decisione è stata approvata dai sindacati dei medici di base, FIM, Snami e SMI. E non appena l'iter burocratico sarà concluso partirà una sperimentazione nelle due strutture ospedaliere. Una sperimentazione che durerà sei mesi al termine dei quali si tireranno le somme. Se i risultati saranno incoraggianti il piano proseguirà. Se invece ci saranno delle criticità si cercherà di superarle. Tangenti nel veneziano. Ecco come la procura spia i cellulari degli indagati. L'ascolto dei telefonini è spesso essenziale in un'indagine. L'esperto Giovanni Ziccardi spiega come si fa. Olimpiadi 2026, niente soldi per lo skating. Salvini, Gela, Zaia e Fontana. Il ministro continua a indicare Torino come sede per il pattinaggio su ghiaccio dopo la rinuncia trentina. E la foto di copertina è dedicata alla fauna. L'esemplare albino fotografato in Valbelluna da Mauro De Moliner traditi dalla mutazione genetica caprioli albini prede dei lupi. Gli esemplari di ungolati albini, in particolare caprioli, non sono rari nel belunese. Ma lo stanno diventando sempre di più perché il ritorno dei grandi predatori li mette a rischio. Non potendosi mimetizzare nella boscaglia, diventano bersaglio facile per i lupi. E per quanto riguarda lo sport, il richiamo del Corriere delle Alpi dalla prima pagina ci porta a Cortina. Odermatt Super, alle sue spalle c'è Paris. Lo svizzero si conferma nel secondo Super G di Cortina. Applausi per l'Azzurro. Ancora sport, De Silvestro festeggia l'argento ai mondiali. Calcio di Serie D, pari e rimpianti per la Dolomiti con il Bolzano. Pallavolo a tre, quinto set fatale al Belluno con il Garlasco. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Adentriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale. Poi proseguiremo con i fatti prettamente beronesi. Siamo a pagina 2. L'allarme ha tentati, caso cospito il governo tuona. Mai a patti con chi minaccia, gli 007 allertano le ambasciate. Cresce la tensione, Monotov su un commissario a Roma, eletera con un proiettile al tirreno. In 41 denunciati dalla polizia dopo riscontri, il medico risca la fibrillazione, va trasferito. Questa è la dichiarazione di Antonio Tajani, ministro degli esteri. Siamo preoccupati ma abbiamo reagito nelle ambasciate, abbiamo rafforzato la sicurezza. Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, si è portata anche tappa. Troppa pazienza con i violenti, chi usa la violenza deve andare in galera. La lettera al tirreno con un proiettile. Se cospito muore, i giudici sono tutti obiettivi. Ancora nella notte di sabato una Molotov ha colpito il commissario di polizia al penestrino. La valanga anarchica, la galassia intorno all'anarco nichilista, si è ricompattata. Rischio cani sciolti per l'escalation di attacchi nel mondo. Alfredo Cospito, tutto questo appunto per l'arresto di Alfredo Cospito. In aula a Genova nel 2013 al processo per riferimento di Adinolfi, la mestre delegato di Ansaldo Nucleare. Le tappe, l'ordigno ad Atene, il 2 dicembre esplode un ordigno nell'automobile parcheggiata in garage di Susanna Sklein con consigliera all'ambasciata di Atene. L'offensiva all'estero, il 27 gennaio incendiata un'auto nell'ambasciata di Berlino, infranta una vetrata al consolato di Barcellona. Quindi l'approfondimento che troverete a pagina 2-3 riguarda proprio l'allarme attentati che si è nuovamente innescato. Per quanto riguarda invece l'emergenza nel Mediterraneo, siamo a pagina 4, la battaglia navale, la Ocean Viking con 95 naufraghi al porto di Carrara, la denuncia dei soccoritori. I mezzi libici ci giravano intorno, ostacolavano il salvataggio con manovre pericolose. 95 i naufraghi salvati dalla Ocean Viking di SOS Mediterraneo sbarcati a Carrara, 237 i migranti salvati dalla Geo Barents e sbarcati ieri al porto di La Spezia. L'intervista a Graziano Del Rio, questi accordi con Tripoli sono un patto con il diavolo, l'ex ministro del PD. Oggi abbiamo le prove dei crimini contro i migranti, il memorandum è stato uno sbaglio, abbiamo chiesto venisse cancellato. Una delle dichiarazioni che troverete in questa intervista è un grave errore di debolezza a Tripoli, protagonista di una sistematica violazione dei diritti umani e ancora durante il governo Gentiloni c'era una vera emergenza, flussi e in Libia stava nascendo un governo. Fatti di carattere internazionale, l'invasione dell'Ucraina a pagina 6, il fronte iraniano, droni contro sito militare a Isfahan, è stato un attacco di Israele, sospetti sono intesa con gli Stati Uniti per bloccare i rifornimenti a Mosca. Questo attacco vile è parte dei tentativi portati avanti dai nostri nemici per destabilizzare l'Iran. Questa è la dichiarazione di Hossein Amir Ablaloyan, ministro degli esteri iraniano. Passiamo a pagina 8, sempre per quanto riguarda gli esteri, pugno duro di Netanyahu nei territori, pronti a rafforzare gli insediamenti. Dopo gli attacchi a Gerusalemme, oggi il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken arriverà in Israele. Il Papa si lavori per la pace. Informatica e giustizia, un virus nel telefono, le cyberindagini sulle tangenti a Santa Maria di Sala. Il professore Zicardi spiega come funziona il Trojan di Stato, capace di intercettare gli smartphone degli indagati all'approfondimento. A pagina 9, che riguarda la nostra regione. E per quanto riguarda il Veneto, la politica, parlamentari veneti, casellati la più ricca davanti a Nordio, Gardini, solo 2.400 euro. Pubblicate le dichiarazioni dei redditi 2021 degli eletti, in testa l'ex Presidente del Senato, da Urso, Zan e Crisanti, nessun dato. Questi redditi del Parlamento del Veneto, vediamo che in prima fila abbiamo Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha dichiarato 253.385 euro, seguito da Carlo Nordio con 232.438 euro. Adolfo Urso non ha dato nessuna dichiarazione. Lorenzo Fontana della Lega 99.465, vediamo i senatori, tra cui c'è anche il bellunese Luca De Carlo. Vediamo la sua dichiarazione per quanto riguarda il territorio bellunese, non si vede all'interno delle dichiarazioni. Andiamo quindi avanti, vediamo da questa parte qualche bellunese, no non si vede nessun bellunese. Continuiamo quindi con pagina 11, sempre dalla regione, Nicola Jesca, il centro-sinistra, Zaias Liberi della Donazzana, Assessora di nuovo nel Merino, Scarpa Zanella Frattoianni, più Europa, nostalgie, revisioniste. Bufera sulla lettera agli studenti, nell'anniversario della battaglia. Continuiamo con la provincia di Belluno, ecco le notizie che troviamo da pagina 15, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi come notizia in primo piano del Corriere delle Alpi. Si parla di sanità, pronto soccorso, guardie mediche in aiuto, sperimentazione al via a Belluno e Feltre. L'USL numero 1 Dolomiti offre ore integrative agli specializzanti, gestiranno l'attività di emergenza dei codici bianchi e verdi. L'azienda sanitaria punta sui giovani, l'obiettivo è trattenerli qui. I precedenti camici a gettone e appalti esterni per chiudere i buchi. Da tempo ormai la carenza di medici dell'emergenza urgenza sta creando non pochi problemi ai pronti soccorso. L'USL numero 1 Dolomiti è corsa ai ripari con l'appalto a società esterne per la copertura di alcuni turni, ha affidato altri incarichi libero professionali e ora metterà in campo gli specializzanti per curare i pazienti con codici bianchi e verdi. Segreteria di studio e paghe orarie, il decreto non è stato rinnovato, la perplessità del segretario dello SNAMI Gianluca Rossi. Pagina 16, sostegno le imprese del turismo, fibrotiche in hotel e coi fondi regionali, ma non pagheremo per l'antincendio. Gli armadi per gli allacci costano anche 30.000 euro, Caner incontra la Sant'Anché, rispettivamente assessore al turismo e ministro al turismo, è un problema che va risolto. Olimpiadi 2026, Salvini gela le ambizioni di Zaia e Fontana, rispettivamente presidenti della regione Veneto e della regione Lombardia. Non ci sono soldi per attrezzare un oval, il ministro conferma l'idea di portare a Torino le gare di velocità, il sindaco di Cortina rilancia, ma qui è tutto pronto. Caro Luca, i soldi per l'OVA non ci sono, questa è in sostanza la risposta al presidente Zaia da parte del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ieri ha ricandidato Torino e il Piemonte per le gare olimpiche di partinaggio veloce, quelle a cui ha rinunciato Trento sull'alto piano di Pinè. Ne parlavo con Fontana, il presidente della Lombardia, se in Lombardia Veneto e Trentino hanno la disponibilità e i soldi per il patinaggio bene, altrimenti c'è sempre la disponibilità di Torino e del Piemonte, ha dichiarato ieri Salvini a Milano. Siamo a pagina 18, la rubrica Vivere la Gordino, Nicolas e Christian a lavoro in stalla, siamo i custodi della montagna. Hanno 23-28 anni, la passione per la natura è redditata dai nonni, viviamo in simbiosi con gli animali e riusciamo a comprenderli. Nel loro Pantheon ci sono nonni che li hanno convinti che questo è il posto più bello che ci sia, che li hanno portati da piccoli per mano alla latteria del paese, nonni il cui sogno era investire i soldi messi via nell'altra parte del mondo per curare la terra delle loro origini. Nonni e zii che erano così importanti ai loro occhi da portarli a formulare una promessa, farò quello che fanno loro. E così è stata per i due ragazzi l'approfondimento, lo troverete a pagina 18. A pagina 19 invece ci spostiamo a Milano con la Mido in programma dal 4 al 6 febbraio, la mostra internazionale dell'occhiale, è se la luxottica brand e tecnologia, i modelli scelti con il simulatore. Lo stile delle griffe, a braccetto con le lenti più performanti, in uno stand dove si potrà vivere un'esperienza virtuale. La multinazionale si impegna nel progetto Giornate della Vista con tappe in tutta Italia. E a proposito dell'occhialeria, stop alla progressione della miopia, il colosso Zeiss scende in campo, i tedeschi hanno sviluppato una lente innovativa, lancio sul mercato in primavera. Approfondimento riferito alla fauna bellunese, a pagina 20, ungulati albini a rischio, sono molto diffusi ma contro i predatori, non hanno difese. Il mimetismo è la loro unica arma ma sono estremamente visibili. Quindi ha battuta una beccaccia con la stessa mutazione genetica che vediamo in questo scatto. Vediamo appunto perché si sta guardando da Facebook e YouTube il capriolo albino fotografato da Mauro De Morder completamente bianco e la beccaccia parzialmente albina che anche in questo caso è stata colpita. Altri fatti che riguardano la provincia di Belluno in montagna, turista accolto da Malore al lago di Misurina. Giornata di intensa attività per il servizio di emergenza dell'USL sulle piste e sui percorsi dolomitici. Dopo mezzogiorno una squadra del soccorso alpino di Auronzo è intervenuta in supporto all'ambulanza della Croce Bianca per un 42enne di Pordenone colto da Malore durante una passeggiata al lago di Misurina. Feltre, pagina 21, taglio alle semine incognita sulla pesca, il bacino 10 vola grazie all'incubatoio. Il presidente Zatta ha presentato un piano alla provincia. Se manca il pesce ridurremo la quota associativa. E sempre da Feltre, donazioni di 30.000 euro al soccorso alpino di quattro regioni, anzi siamo a Fonzaso. Carpos è di conseguenza Manifattura Cismon, ha dimostrato di essere concretamente vicino al soccorso alpino e spiologico nazionale, devolvendo il 15% del fatturato sullo shop outdoor di Manifattura Val Cismon pari a 30.000 euro alle stazioni di Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto in parti uguali. Dalla rubrica Cultura e Società, giovani di talento, Bottacine, direttore di teatro a 26 anni, i pregiudizi si vincono sul palco. Da dicembre al sociale di Rovigo, ho esperienza ed entusiasmo, la diffidenza non mi preoccupa. L'intervista la troverete a pagina 22. Vediamo in questo scatto appunto Edoardo Bottacine a destra con Luigi Puxeddu al teatro sociale di Rovigo di cui è direttore artistico. Spettacoli, accordi sempreverdi e adrenalina pura, situazione rock fa il tutto esaurito, tutto questo al comunale di Belluno e sempre al comunale domani a teatro, la musica miracolosa appuntamento alle 20.30 con la settantesima stagione del Circolo Cultura bellunese. E adesso apriamo le pagine sportive, come sempre l'edizione del lunedì è ricca di notizie riferite allo sport bellunese. Incominciamo con il calcio di Serie D, la ventunesima giornata, Dolomiti, pareggio e rimpianti col Bolzano, non basta il Cobra. Non un pomeriggio memoriale contro gli altoatesini, botta e risposta nei primi 14 minuti e poi lunghi tratti sonnacchiosi. Finale con i bellunesi che si fanno preferire, con doppia occasione per Alex Cossalter, negato un rigore apparso evidente per un fallo ai danni di Onesco. 1-1 il risultato finale. Per il calcio di promozione, il Fioribarpa non sfonda, per il Carano tutto facile, 2-0 il risultato finale. Per la prima categoria, 0-0 tra Fregona e Schiara. Continuiamo con i risultati riferiti al calcio di eccellenza, 0-0 tra Limana, Cavarzano e Treviso. E ancora, per quanto riguarda il calcio bellunese, sempre prima categoria, 2-1 tra Borgo, Valbelluna e Cisonese, 0-1 tra Alssie e San Martino Colle. Seconda categoria, questi risultati, 2-0 tra Lential Alpescesio, 1-4 tra Sospirolese e Juventina Mugnai, 0-1 tra Ponte Alpi a Gordina, 0-0 tra Nogaret e Sois, 1-1 tra San Michele Salsa a Fulgor Farra, 0-0 tra Castione, Itlas a Santa Giustina, 1-0 tra Sarmede e Gemelle. Passiamo alla terza padovana, pari senza reti per la Lamonese, Under-19 nazionale girone D, 1-1 tra Virtus Bolzano e Dolomiti Bellunesi. Per i regionali, girone H, 0-1 tra Fioribarp e Cavarzano-Limana, 1-1 tra Cappella Maggiore al Pago, 1-2 tra Giavera e Ponte Alpi. Calcio femminile, Under-17, 2-0 tra Vittorio Falmec e Dolomiti Bellunesi, 6-1 tra Ponte Alpi a Gordina, 2-0 tra Indomita 21 al Pago, 2-2 tra Cavarzano-Limana al Tivolese Maser. Per gli Under-16, 4-0 tra Dolomiti Bellunesi e Vazzolla, 4-0 tra Dolomiti Bellunesi e Vittorio Falmec per gli Under-15. Mondo del Rugby, un feltre scintillante e fa il pieno a Botticino, match subito preso in mano dai Granata, 17-0 dopo soli 10 minuti, poi un agevole controllo pur con qualche piccola amnesia. 22-48 il risultato finale tra Botticino e Rugby-Feltre. Ancora dal Rugby, Serie C, il Belluno fatica più del dovuto, ma passa con il Monte Belluna, 31-15 il risultato finale. Passiamo adesso alla Pallavolo, Serie A3 maschile, la striscia della Darold si ferma a Garlasco, rimontati due set, ma il tie-break è fatale. Approccio di gara non positivo di Graziani e compagni, che poi reagiscono bene, nel quinto decidono i punti finali, 3-2 il risultato finale. Scinordico, Bergagnino e Busini si piazzano fra i primi 40 alla marcia lunga. Scialpino, Grand Prix, Lattebusche Belluno alta, Drusche supera D'Auronzo sul podio Cortina SC 18. Ancora per quanto riguarda lo Scialpino, GP Lattebusche Belluno bassa, Dalfarra in vetrina in Nevegal, l'Arabba vince a squadre. La Cucciola dell'Imana batte anche i maschi sulla pista coca nello speciale, prima posizione di categoria anche per Franceschetti, De Graff e Caselli. Pietron giovanile, l'Alto Adige si porta a casa a quattro scudetti su otto. In 250 si sono dati appuntamento in Val di Zoldo per i campionati italiani. In programma la gara sprint e l'inseguimento. Scinordico, Mondiali Juniors e Under 23, De Martini e Barp, quinti posti che valgono come un podio. Sport paralimpico, De Silvestro, altro argento ai mondiali di Espot, stavolta nello slalom. E ancora per lo scialpinismo, Festini, Furlan e la Valmassoi fanno proprio a mani basse il ventesimo trofeo Zande Giacomo. Scialpino Coppa del Mondo, protagonisti a Cortina, Marco Dermate è ancora il re di Cortina, Dom e Paris secondo dietro allo Svizzero. Stesso copione di sabato nel Super Gbis sulla Olimpia, errore di Childe sul podio, anche la sorpresa di Annel Emensberg. Troverete tutti i risultati in questa pagina del Corriere delle Alpi. Ma ancora per quanto riguarda la Coppa del Mondo a Cortina, entusiasmo Dominic, tornare sul podio ha un sapore speciale, ora testa ai mondiali. Ancora Coppa del Mondo a pagina 44, successo organizzativo, stress test superato, e Cortina ora guarda convinta ai giochi 2026. Grande soddisfazione per i due weekend di gare, il sindaco Lorenzi è stata una bella sfida, il territorio ne è uscito benissimo anche in TV. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo qualche occasionale passaggio di nubi alte. Nelle ore più fredde saranno possibili parziali riduzioni della visibilità in pianura con foschie e locali banchi di nebbia specie sulle zone centro-occidentali. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'una ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione velonesi nel mondo.